Cari teste fiorite, buongiorno! Ma lo sapete che giorno è oggi? Oggi è il 16 dicembre, oggi il gigante dell'illustrazione Quentin Blake compie 90 anni e quindi non potevo non dedicare a lui questo video, che è un video monografico di quelli che di solito ormai faccio solo per gli abbonati al canale, ma questo è aperto a tutti perché vorrei raccontarvi Quentin Blake, che è un autore molto molto eclettico, nel senso che ha almeno 3-4 tipi di modi di lavorare. Il primo illustrando narrativa di altri, illustrando altri libri di altri, insomma, quindi facendo dei libri con le figure, quindi libri che hanno il testo prevalente e le figure. Primo esempio ovviamente che viene in mente a tutti è la collaborazione con Roald Dahl, perché se uno pensa a Quentin Blake, pensa immediatamente a Roald Dahl. Questo per esempio è il GGG, uno dei suoi capolavori, il capolavoro peraltro di Roald Dahl, questa è la versione fatta per l'anniversario di Roald Dahl qualche anno fa, ma non ha collaborato solo con lui, adesso scopriremo piano piano. Quindi l'illustratore diciamo di libri con le figure, poi l'illustratore di albi illustrati in collaborazione con grandissimi, primo tra tutti John Yeoman, per cui l'illustrazione insieme al testo ma nella forma dell'albo illustrato, quindi il libro a figure, non il libro con le figure. Ma poi c'è anche il Quentin Blake che lavora da solo, quindi che fa gli albi illustrati tutti da sé e scopriremo alcuni di questi titoli eccezionali. Poi però abbiamo anche un Quentin Blake particolarissimo che si occupa di divulgazione in qualche modo e che esprime, diciamo, porta avanti dei progetti di studio sull'illustrazione e sugli illustratori. Quindi un Quentin Blake che a tutto tondo si occupa di bambini e ragazzi, di letteratura a livello più alto e che ha un'attenzione particolarissima ad alcune tematiche, cioè la sua poetica è molto 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 chiara. Innanzitutto è una poetica sempre dalla parte dei più piccoli. Anche il suo ultimo libro che ho recensito lunedì, tutte le recensioni le trovate ovviamente sotto nei commenti, Il signor Filkins nel deserto, è un libro proiettato nella dimensione dei bambini, sempre adulti dalla parte dei bambini o bambini che si liberano di adulti, esattamente come faceva Roald Dahl, come fanno i testi di John Yeoman. C'è sempre uno scatto di liberazione nelle sue narrazioni, spesso è una liberazione di piccoli verso i grandi, naturalmente a livello di metafora, non è detto che si tratti sempre di bambini versus adulti o altre cose, ma ha sempre un livello di, ecco, la libertà credo che sia uno dei suoi elementi poetici più forti. Un altro elemento poetico fortissimo è quello della difesa dell'ambiente, ovviamente non esplicitato in maniera becera, ma ha esplicitato attraverso metafore straordinarie, per cui questo è un altro elemento sempre presente nelle sue narrazioni. Quindi diciamo che riconosciamo sempre il tratto di Blake, proprio il tratto, il tratto, come dire, di illustrazione così rapido, così veloce, che lui dice di aver scoperto tardi il colore perché era solito appunto fare questi schizzi molto veloci e si trovava bene col bianco e nero, molto più avanti ha scoperto il colore, ma insomma ritroviamo i suoi tratti poetici spesso, direi sempre, nelle collaborazioni più varie, ecco. Però se volete scoprire davvero tutta la storia dell'opera di Blake molto più approfondita di quanto potremo fare noi insieme in questi pochissimi minuti, che sono come sempre solo uno spunto da cui partire e approfondire, allora il primo libro da cui vorrei partire per questa puntata di Teste Fiorite Video dedicata a Quentin Blake e i suoi 90 anni è questo libro splendido, un libro, eccolo qua, il libro di Quentin Blake a cura di Jenny Haglund, edito dall'Ippocampo, che vi racconta, è proprio un saggio dedicato, è una biografia di Quentin Blake, scusate c'era la mia matita in mezzo, dedicata a tutto il suo lavoro, le sue collaborazioni, il suo modo di lavorare, i suoi schizzi e via dicendo, un libro davvero, davvero, se volete farvi un bel regalo a Natale o farvi fare un bel regalo a Natale, questo non è male. Per cui partiamo da qui per scoprire le anime di Quentin Blake, quindi partiamo da quella che forse conosciamo più tutti, quindi la collaborazione in libri con le figure, quindi narrativa illustrata, ovviamente Roald Dahl che abbiamo appena nominato, ma non solo, abbiamo per esempio, ce ne sono tantissimi, ne ho scelti solo pochi, questo piccolo gioiellino, peraltro a Natalizio, l'ultimo regalo di Babbo Natale, di Marie-Od Muray, Elvir Muray, edito dal Camelo Zampa, anche in questo caso è una piccola narrativa illustrata, questo libro a cui tengo tantissimissimo che è La gatta con gli stivali, questo è un testo di Beatrix Potter che ha illustrato ovviamente anche Beatrix Potter, ma è stato riillustrato da Quentin Blake, la cosa più eccezionale di questo libro è che Blake usa il suo stile inconfondibile, ma mimetizzandosi, diciamo riprendendo gli originali della Potter, per cui con un lavoro anche filologico di illustrazione che sarebbe degno di studio. Vi lascio nei commenti la recensione così vedete alcune illustrazioni della Potter accostate a quelle di Blake ed è veramente stupefacente il lavoro che ha fatto. Questo ultimo esempio, ma ripeto ce ne sono tantissimi, di collaborazione in libri con le figure, quindi narrativa illustrata, ve lo faccio con un libro splendido fatto insieme a Johnny Eumann che così ci porta verso gli albi illustrati firmati tra i due grandi autori, Johnny Eumann appunto e Quentin Blake. Questo è Piuma in libertà, edito da Camelo Zampa, a differenza degli altri libri fatti insieme non è un albo illustrato ma è proprio una narrativa con le illustrazioni. Fa parte della bellissima e nuova collana Le Piume di Camelo Zampa, scusatemi non si chiama Le Piume ma I Pelucchi, la nuova collana. Eccola qua. E allora entriamo nel mondo di Eumann e Blake. I due picnic, i due libri dell'orso, quindi il picnic e l'altro libro di cui adesso mi sfugge il titolo, sono editi da Camelo Zampa. Invece qua vi mostro Beatrice Vanessa, meraviglioso, edito da Clichy. L'arca del Signor Noah, splendido, anche questo edito, anche questo da Clichy. Il cavallino e maestrato, edito dalle rane interlinea. E il mio preferito, cioè proprio uno dice hai il tuo preferito, forse non vi interessa, ma ve lo dico lo stesso. Il mio preferito della loro collaborazione insieme, quindi Eumann e Blake, è questo. Lavandaie scatenate, edito da Clichy, perché è davvero un gioiello da ogni punto di vista ed è esilarante. Scritto nel 79, è ancora molto molto attuale, ma è pubblicato in Italia, se non vado errato, nel 2019. Però ricordiamoci che è un testo del 79, perché credo che faccia la differenza. Passiamo invece ad alcuni libri firmati completamente da Quentin Blake. Sono entrambi, in questo caso, editi da Camelo Zampa. Questo è L'erbaccia, che ruota molto attorno ad una delle tematiche che abbiamo già nominato di Quentin Blake, tematiche poetiche, quelle dell'attenzione all'ambiente, al clima. Questo è l'ultimo uscito, il signor Filkins nel deserto, testo autobiografico in cui abbiamo una summa di tutte le sue tematiche poetiche. Vi lascio anche di questo la recensione nei commenti. Mi mancano purtroppo tra le mani due capolavori editi da Camelo Zampa, ma ve li lascio qua nei commenti, che sono Zagasù, Strepitoso e Clown, che è un libro senza parole, uno dei più bei libri senza parole mai fatti, completamente firmato da Quentin Blake. Chiudo questa carrellata a lui dedicata con due proposte particolari. Una è questo, temo sia ancora fuori catalogo, ma è davvero bellissimo, è un libro dedicato a come si disegna. L'autore è Quentin Blake insieme a John Cassidy. È un libro che vi ho nominato diverse volte, perché io lo trovo di una bellezza incredibile. Blake vi accompagna passo passo nell'illustrazione di varie cose, dalle ombre alle silhouette o agli animali, le pagine costruite, eccolo qua, il coccodrillo. Insomma, trovate un Blake che vi porta dentro il suo laboratorio e io lo trovo straordinario. Spero davvero che Editoriale Scienza lo ripubblichi perché è un libro eccezionale. Chiudo con una collana di libri che non è di Blake, ma è curata e voluta da Blake e io lo trovo interessantissimo. Questa è la collana Illustrators, edita da Lupo Guido. L'ultimo uscito mi pare sia questo di Judith Kerr. Il fatto che lui abbia voluto un centro di studi per le illustrazioni e deciso ho portato avanti. Insomma, questa collana che è proprio a cura di Quentin Blake, io lo trovo straordinario, perché vuol dire che questo è un autore non solo gigante dal punto di vista, diciamo, della sua capacità, della sua bravura, della sua ecletticità, tanto gigante quanto forte nel mantenere una poetica salda. La poetica di Quentin Blake non è una di quelle che, come dire, si disperde nella relazione con gli altri, è una di quelle forti che trova nella relazione degli altri un confronto ed una conferma. Quindi tutte le collaborazioni che Quentin Blake ha avuto nei tantissimi anni di lavoro, ormai sono più di 70 anni di lavoro, sono tutte collaborazioni in fila con il suo modo di pensare e in linea con la sua poetica. Quindi straordinario, ma anche questa attenzione è sempre rivolta verso lo studio, verso il futuro che però si costruisce conoscendo il passato. Quindi questa attenzione ai giovani illustratori che però è anche un'attenzione allo studio dei grandissimi illustratori del passato. Speriamo che tra questi un giorno, spero, insomma, ancora lui vivente, quindi non postumo, ma uscirà un libro a cura, diciamo, di qualcun altro però nella collana che ha voluto lui di illustrator dedicata a Blake. Per il momento però godiamoci davvero questa eccezionale biografia, il libro di Quentin Blake che è ovviamente caduto a fagiolo in questo suo novantesimo compleanno in cui Pocampo ha pubblicato appunto questo splendido libro e anche le favole di La Fontaine illustrate da Blake che rientrano in quella, diciamo, primo filone che abbiamo nominato del lavoro di Blake per altri autori, con altri autori. A volte fatto insieme, come nel caso di Roald Dahl e Yeomana, ci sono, e ce lo racconta il libro questo qui, tutte le carte, insomma i carteggi, i racconti di quanto si collaborava, quanto collaboravano e quanto ancora collaborano gli autori con l'illustratore per poter creare il personaggio adeguato, ma a volte Blake interviene su testi già esistenti, il caso delle favole di La Fontaine ovviamente, quindi entra in relazione anche con autori che, il cui testo come dire già concluso, ma che vengono reinterpretati dalla sua opera. Ecco qui mi fermo, ditemi cosa vi piace di Quentin Blake, ditemi se avevate intuito, se conoscevate già tutte queste sue anime, quindi quella in cui lui collabora con qualcun altro per la parte narrativa, quella in cui collabora, anzi fa da secondo autore, da coautore di un albo illustrato, quello in cui fa l'autore completo di Albi Illustrati, in cui scrive e illustra, ricordiamoci che sia un autore completi anche quando si fanno i libri senza parole, quindi il caso di Clown e il caso poi invece della divulgazione e il caso della costruzione di una collana dedicata agli illustratori. Insomma, ditemi cosa ne pensate, io non posso che augurare buon compleanno a Quentin Blake, sperare che ci regali ancora tantissimi libri ed essere infinitamente grata per tutti quelli che fin qui ci ha veramente donato, perché senza un gigante come Quentin Blake sicuramente il panorama della letteratura per l'infanzia dell'adolescenza sarebbe decisamente più povero.